Bella a tutti ragazzi, cercherò di essere il più breve possibile in questo video Mi scuso per l'audio, per il montaggio che non ci sarà e se parlerò troppo o se parlerò troppo poco Ci tenevo a parlare del fatto che avevo fatto sì quel video su Briga, no? Di Briga che cantava fuori dal tunnel di Caparezza E mi sono arrivati, e questo video l'ho fatto circa tre settimane fa Mi sono arrivati insulti di molta gente, eh Sei un coglione, dè qua, dè là, giudica, dè qua, non giudica Giudica, tu sorella E fino a là non me ne è fregato un cazzo perché, cioè, sinceramente A me non dà fastidio che mi dicano testa di cazzo, le persone che si ascoltano a Briga No, non è perché si ascoltano a Briga, è perché vedendo la fanbase che c'ha a Briga Ossia, tu non puoi esprimere un tuo giudizio che vieni assaltato E quindi, cioè, per me non c'ha tanto valore quello che mi dicono Ma andai a leggere adesso, nei commenti del mio YouTube, che Loro conoscono il senso, cioè, comunque, chi ha scritto questi commenti Ha scritto una persona, eh ma il senso di fuori dal tunnel, si sa È che lui non gli si annoia se esce di casa e preferisce non uscire Allora, se questo per i fan di Briga è il senso di fuori dal tunnel Cioè, non avete capito un cazzo della vita, prima di tutto È come di che dalla parte del toro parla della corrida Parla anche della corrida, sì, è quello, va bene Ma non parla della corrida dalla parte del toro Cioè, se sai che so le metafore, queste cose qua Ah no, tu ti ascolti Briga, è vero Eeeh, no, non è vero, non voglio insultare a Briga, perché sinceramente a me ti briga Non me ne frega un cazzo, non lo conosco come cantante Non ho mai ascoltato, forse ho ascoltato una canzone sua, ma non lo so Eeeh, comunque, io non lo insulto come cantante, non me ne frega niente Io dico, ho sempre sostenuto, che, essendo un cantante, è un cantante che sicuramente ci tiene i suoi fan Sicuramente magari è una bravissima persona Però, il prodotto commerciale che è Briga, ossia il classico rapper sbruffone Che chiama un prodotto attraverso piffero O che comunque, quando viene detto, cioè nel senso, boh, una persona Diciamo di spettacolo, di televisione, una persona che ha fatto amici Secondo me non si può permettere di cantare a caparezza Perché caparezza, cioè, è un altro livello, cioè, non esiste Solo questo io ho detto Poi che i fan di Briga vengono a scrivere, ma testate cazzo, coglione Quello là non me ne frega niente, pure perché dicono che io ho insultato Briga Io non ho insultato nessuno, io ho solo detto che non mi piace Quello si chiama criticare, non si chiama insultare Come tu puoi criticare dicendo, non mi piace il video che hai fatto E quella è una critica e l'accetto E se tu mi dici sei un coglione, io leggo il commento e non me ne frega un cazzo Se invece tu mi dici, non mi piace perché potevi dire così, così, così Possiamo aprire una discussione e parla due ore Ma che tu mi vieni a dire, sei un coglione Perché hai fatto un video che critichi una persona Senti, Briga è un personaggio pubblico Io l'ho criticato in quanto personaggio pubblico In quanto non mi è piaciuto che ha fatto quella canzone Non è che ti ho detto che tu devi pensarla come me Prima la cosa E seconda cosa, non c'è bisogno che mi insulti per dimmi che non ti piace Non condividi la mia idea Non è che io t'ho insultato perché ti ascolti Briga Forse adesso ho insultato qualcuno mentre parlavo perché ti ascoltava Briga Ma quello che volevo dire io è che Se tu ti ascolti Briga, ascoltate Briga Sono contento che te lo ascolti Ma io ho semplicemente espresso il mio parere Sul fatto che Briga Almeno da quello che ho visto Quello che lo conosco E non lo conosco tantissimo Ma da come ho visto un paio di volte Che si è comportato da Michio Comunque il personaggio che lui è È un personaggio sbruffone Mo non so se è un fake Perché tanti dicono che è un fake Tanti dicono di no Ma il fatto della ragazza che non si è fatto la foto Perché non c'era il cd Secondo me È una cazzata Perché secondo me un artista non lo farebbe mai Però nel senso Sono tante piccole cose Che io dico Ok, sì, ti piace Briga Ascoltate Briga Ma comprate il cd Va a tutti i concerti Cioè cazzo io spendo Io vado a tutti i concerti che fa Caparezza Un altro po' E io non posso dire che tu sei un cojone Perché ti ascolti un cantante Ok? Perché io mi sono girato il mondo Per vedere Caparezza Ma Il fatto che Tu me ne di No perché Il senso di fuori dal tunnel È che lui esce da casa Non esce da casa perché si annoia Non c'è capito un cazzo della vita Proprio in generale Poi capisco che c'hanno tutti Tra i 12 e i 15 anni Quelli che mi scrivono queste cose Però porca troia Cioè informate prima di parlare Ma perché parli a buffo? Cioè io E poi Continuo a ripete Tu mi insulti Perché io ho criticato una persona Cioè io non c'ho parole Comunque raga Mi scuso ancora Per sto video sfogo Però Non c'è posto sta che Mi dici che Fuori dal tunnel Vuol dire che non gli piace uscire De casa A caparezza Cioè proprio Come cazzo gli è venuto in mente Sta cosa Umiltà ragazzi Ci vuole umiltà E più che altro Porco due Vi devo comprare Mo A tutti i fan di briga Aprirò un Indiegogo Per mandare Un vocabolario A casa dei fan di briga Ogni fan di briga Deve avere un vocabolario E deve leggersi La cazzo di differenza Che ci sta tra Insultare E criticare Perché Porca troia Che Mo ti porto l'esempio Che ho scritto A una ragazza Che poi ha smesso di scrivermi Sui commenti Perché evidentemente Si è pure offesa Però mi scrisse Mi so scrivere insulti Pesanti Tipo Sei un coglione Vaffa culo Devi morire Mortasci E qua e là E io gli ho scritto Scusa Tu mi dici Che io sto a insulta A briga Ma io ho detto Che non mi piace E' come se a te Ti dico che Non sei carina Non sei il mio tipo Non mi piace Oppure ti dico Che sei una mignotta E caso Che non mi piace Si T'ho criticato Però In senso Negativo Però non è che T'ho insultato Se ti dico Che sei una mignotta T'ho insultato Quindi questa Fondamentalmente È la differenza Dopo questo Vi saluto E mi vado a riposare Perché è giusto Che sia così Un bacione a tutti E se vediamo Al prossimo video Spero di ricominciare A registrare qualcosa Di sensato Perché Sto a casinare Con il lavoro E non sto a carica niente Quindi Nel frattempo Che cacchio ne so Se ve va Guardateve qualcosa Nel canale E Perché non ci sta niente Sennò guardateve L'altri canali Di youtube Pieno di gente Che fa i video E Niente Vi saluto E Se vediamo Non so se magari Volete lasciare Un commento qua sotto Cioè Vi prego Fatemi sapere Che non so solo Cioè nel senso Almeno a conoscere La differenza tra critica E insulto Ma pure se siete fan di briga E vi volete dissociare Dalla massa Di persone capre Ignoranti Che insulta Senza un motivo Apparentemente Valido Cioè Scrivetemi qua sotto Qualsiasi cosa Pure voi che dite Che sono c***o Scrivetelo Che sono un co***o Ma motivate Il perché Almeno Ok Bacio a tutti Regà Grazie Grazie Grazie